musica 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 perchè devi guardare oh oh guarda che chiappe voluminose che ha è vero sono un po' più greco smettila devi andare a destra fino a? tagli la visuale premix ok ma smettila dove c'è quell'uno vai di lì è così stancante vedi che anche lui lo dice si si chi se ne frega vai dentro ah no questo non è il livello che volevo farti fare torno indietro per quello c'è ancora tempo ehm il livello che volevo farti fare a sinistra wow è il salto grande quello quella lì dove ci sono le tre stelle da urlare smettila di scregiare è la natura? no si reaction tutte cosa significa? lo so dai entra lì dentro ciao papà e ti faccio fare un'altra scivolata mi piacciono perché questi sono tutti uomini di neve uomini ceccione di neve entra in quel camino e poi si puoi partire proprio nel camino perché si è nel camino come è babbo natale ciao papà uomo rosso con i bassi entra dal camino è babbo natale ma basta il microfono anche io lo distruggo però tu almeno che sei più intelligente vai 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 attento che questo è un po' più difficile non saltare questo è più difficile non riesco a prendere neanche una mano chi se ne frega non prendere le stelle ma a me piacevano dai vai no che culo hai avuto solo culo attento 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 oh no cri ce la facevi ce la stavi facendo è perché è una morte quella dalla me tocca a me che cosa significa vai con la scorciatoia what the fuck pezzo di merda pezzo di merda pezzo di merda dai è così facile questo scorciatoio da prendere non hai preso neanche quel funghetti chi se ne frega i funghetti ecco perché io ce l'ho andato contro c'era un motivo c'era un motivo se ce l'ho andato contro vabbè io ce l'ho fatto che nervosismo di secondo livello oh cosa sta succedendo ok voglio scivolare anche io come scivolare lui ahahah 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 altra stella facile ahahah ahahah grazie maestro maestro non lo sapevi ha dei boccoli dietro ahahah vedi ha due palle ma no ahahah esplora pure tutto il mondo che vuoi perché adesso la sfida sarà il piccolo pinguino perduto e vai ci penso allora sai cosa devi fare non riesco a trovare le mie palle però voglio provarci sai cosa devi fare non scoparti l'albero almeno ah no dovevi tornare su si hai sbagliato strada però che figata mamma mamma ma è la sederata la sederata la sederata va bene dove sono finito sederata ok va bene non era quella la sederata ma vabbè in teoria dovresti risalire tutto no non lo voglio perchè devi prendere il pinguino perduto che era lì sopra ok e darlo alla pinguina qua e tu mi sei oh god my baby have you seen my baby sei una stroncia ecco è una madre che ha perso il bambino non è che è ma non me ne frega potrebbe stare su invece di farlo dai capi capita capita sempre ok riportami su eh devi ritornare su adesso ok due coglioni perchè l'ho mai detto prima ci sono altre sfide più facili però adesso fai quella del pinguino lancia merda lanci no 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 ma son fatto di male ahia ah ahah questa roba col fiorellino tira non ce la fai kri come faccio a tornare su no non voglio finire di nola è il salto lungo il salto lungo non il salto normale cazzo e non me lo fa vabbè dai torna giù considerate ah vabbè è vero che con la neve rimanissero incastrato dai devi andare di là dall'altra parte smettila di giocare con i tasti dall'altra parte papà sto arrivando no la madre smettila di andare a scorreggere devi salire sulla funivia sali smettila che poi cadi mamma mia mi fa paura ti fa venire le vertigini no le lentigini le lentigini devi smetterla devi veramente smetterla hai un serio problema avevi una moneta davanti ma non l'hai voluta prendere ora devi salire su quel bonte vai ah una testa di un pupato di neve puoi parlarci se vai davanti ma perché c'è non me lo ricordo vai no forse adesso non puoi parlare eh vaffanculo ah si oh no talk about how body experience my body no non me ne frega cazzi tuoi deve praticamente riportargli il corpo in teoria no non lo trovo si era all'inizio era sempre all'inizio caustor aia idiota vai via non puoi ammazzarla devi semplicemente superarli boh hai fatto un salto veramente voglio prendere mamma ok lì c'è lì non c'è un ponte quindi devo fare quello non ne ho idea come risalirlo o riavvi la partita oh ok o riavvi la partita oppure muori ma perché non me lo fa perché non è devi scivolare per fare il sottolungo e basta ultra combo certo che ora si è diventato abbastanza bravo in poche puntate no devi scivolare cazzo devi prima scivolare poi farlo dai stiamo passando 4 minuti qua senza neanche prendere una stella aiuto e ora devi rientrarci basta io ti spacco il culo se ti trovo a chi? al pinguino? si dai ce la farai in un minuto a riportare il pinguino da non so neanche dov'è è lì all'inizio del livello e allora perché mi puoi prendere un snack io? e la scala smettila di bestemmiare in russo no devi andare da sopra il tetto vai sopra il tetto quello lì e poi vai sopra lì vedi quel pinguino? ma quanto è storo? quanto è storo? ora devi prenderlo a pugni ok ora devi portarlo giù bravo coglione stai morendo e adesso? eh devi prendere una moneta no 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 Cri wow ok sei solo fortunato che dice la no non dimmi che sei presto prima che presto prima che no 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 premio vieni qui prendilo vieni qui prendi quelle monete già che ci sono lì in fondo vabbè frega delle monete vieni qui si che ti deve fregare delle monete vieni qui ce la fai che nervoso Cri ce la fai non esco a prenderlo Cri ce la fai dammi la mano non si tira su dammi la mano devi solo fare non viene ecco ma che se ne va è semplice penso di me ah ho sbagliato tasto oh vedi era così semplice eh si vai a prendere un attimo quelle monete ti ricarichi un po' la vita no no mi ha piaciuto un po' di cazzo ora devi andare dall'altra parte mi sembra posso buttarlo? no mi serve guarda che c'è una stella lì uh c'è una stella lì certe visi certe visi no era dall'altra parte che dovevi andare perchè sono andato giù io non vedo niente premi x vai vieni qui coso vieni qui è in una zona imprendibile ma cazzo ma ancora la fai tu cazzo ma ancora la fai tu cazzo